Emergono nuovi episodi a carico dell'ex PM del Tribunale di Trani Antonio Savasta, arrestato lo scorso mese insieme al giudice Michele Nardi nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Lecce su una presunta associazione a delinquere che pilotava processi e insabbiava indagini per favorire facoltusi imprenditori in cambio di denaro. Dalle dichiarazioni del coratino Flavio Dintrono, testimone chiave dell'inchiesta e dalle risultanze di alcuni esposti giunti all'attenzione dei PM Leccesi, sarebbe emerso il tentativo da parte del magistrato Barlettano di bloccare un procedimento penale a carico di alcuni imprenditori e di un professionista, con l'obiettivo di favorirli nella disputa giudiziaria riguardante la gestione di un importante albergo del Nord Barese. Nei giorni scorsi era stato invece il titolare di un'agenzia di viaggi a confessare agli inquirenti di aver pagato 400 mila euro per venire fuori pulito da un'inchiesta per reati tributari in cui era rimasto coinvolto. Un'indagine in realtà mai esistita verrà chiarito solo successivamente, di cui Savasta aveva messo al corrente l'imprenditore con il solo scopo di intimorirlo e sottrargli dei soldi. La Procura di Lecce ha intanto iscritto altri nomi nel registro degli indagati, notificando a 12 persone, tra cui altri magistrati e professionisti del circondario tranese, un avviso di proroga delle indagini per 10 ipotesi di reato, tra cui la corruzione in atti giudiziari. L'inchiesta dunque si allarga, trovando sponda nelle dichiarazioni di Savasta, che sta collaborando con gli inquirenti, ma anche negli esposti inviati a Lecce dai vertici della Procura di Trani, che stanno esaminando scrupolosamente decine di vecchi fascicoli. Nel frattempo il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione per il giudice Nardi, che quindi rimarrà rinchiuso nel penitenziario di Matera. I legali di Savasta, attualmente detenuto nella casa circondariale di Lecce, non hanno invece ancora avanzato alcuna richiesta di attenuazione delle misure cautelari.